Siamo arrivati al tuo secondo gol con la maglia giallo-blu, un gol che ha chiuso definitivamente questa partita, difficile contro una buona squadra come la Tarnana. Sì, sappiamo di affrontare una squadra difficile, tosta, perché loro venivano da cinque risultati consecutivi, sembra più o meno, e siamo andati in difficoltà, sul 2-0 siamo andati un po' in difficoltà e questo non deve accadere. Tatticamente ha anche cambiato un po' il Verona, quest'oggi contro la squadra di Toscano, insomma tu trequartista, davanti a te meglio, e quindi alle spalle di Ferrari e Caccia, appunto, potevi agire tu che avevi grande libertà sulle trequarte. Sì, questa partita il misto ha deciso di adottare questo modulo e per fortuna è andata bene, perché abbiamo vinto, abbiamo, penso, convinto fino al 2-0, perciò è una giornata importante per proseguire questo cammino. L'Empoli che pareggia, di nuovo dieci punti tra la terza e la quarta, il suolo che si ferma in casa del Novara, insomma, la classifica sorride sempre più al Verona. Ma no, come dicevo ai tuoi colleghi, noi non dobbiamo guardare quello che succede in casa altrui, noi dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo continuare di questo passo perché siamo consci della nostra forza e dobbiamo andare avanti per fare sempre più punti da qui alla fine. Anche perché poi adesso ci sarà una settimana corta per voi, visto che c'è l'anticipo di venerdì sera e Manuzzi in quel di Cesena, insomma, un altro campo difficile anche perché si giocherà sul sintetico che voi non siete abituati. Sì, ma a parte il sintetico, una squadra tosta, quella del Cesena, però noi dobbiamo andare avanti per il nostro cammino, dobbiamo guardare chi ci affrontiamo ma con la tranquillità della squadra forte. All'inizio scivolavate tutti, è dovuto al fatto che c'è stata parte del terreno che è stato cambiato, rizzollato, insomma, tacchetti sbagliati perché più volte ho visto che perdavate stabilità. Purtroppo questo campo non è il massimo, speriamo che migliori da qui alla fine perché così per una squadra che gioca a calcio come noi siamo un po' limitati. Vinta l'ottava finale perché insomma ne abbiamo ancora sette sul nostro cammino per continuare a sognare in grande. Sì, una prima finale abbiamo vinta, adesso ne mancano sette, dobbiamo fare più punti possibili e poi alla fine tireremo le somme.